Modificare il regolamento 16 del 2012 prevedendo che il periodo di permanenza nelle strutture socio-assistenziali della persona anziana divenuta non autosufficiente sia limitato allo stretto tempo necessario alle ASL a provvedere alla collocazione in residenza appropriata, garantendo per tale periodo la maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria già prevista oggi. Questo quanto previsto da una mozione firmata da Massimo Buconi, PSI e approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa regionale. La mozione impegna la Giunta a dare disposizioni affinché le modalità di valutazione delle varie unità multidisciplinari di valutazione preposte all'accertamento della non autosufficienza siano uniformi su tutto il territorio regionale, adottando in maniera sistemica e omogenea il sistema di valutazione multidisciplinare in modo da poter consentire una gradualità nella valutazione nell'ambito della non autosufficienza. L'assessore regionale al welfare e ai servizi sociali, Carla Casciari, ha confermato la volontà della Giunta di modificare al più presto le modalità di assegnazione da una struttura all'altra con un'apposita delibera. Serve un po' di tempo, aggiunto, solo per estendere l'utilizzo della scheda di valutazione multidisciplinare, mettendo in moto il sistema informatico che riguarda il sociale. Ci sono già stati incontri specifici in merito.